Grazie a tutti Guardate la luce che mi fa Inquadra la porta mentre è alta Fammi provare no Che c'è sotto le macchine E' fredda? No, però in te è nero vuol dire che è super calore E io come faccio? E' in bianco e nero, non è in infrarosso O te dico di sì, la tua pelle è bianca, la porta è nera La mia pelle è bianca vuol dire che è super calore Si, è vero Cioè quello che emette calore lo vedi più chiaro E la maniglia emette più calore del legno Cioè il metallo emette più calore del legno E le porte E le finestre No, e le pareti vuol dire che sono più Calde Della tua pelle No Perché la tua pelle è Guarda il freddo, capite il freddo Tu sei calda Tu sei calda, sì Sì, ma è in bianco e nero Non è in bianco Posso provare? No, non può essere Posso provare Posso provare? Posso provare Guarda il girasole, guarda, guarda Fermo, guarda il girasole Guarda Cioè praticamente segna che il centro è più caldo dell'esterno No No Più scuro è più Sì Vuol dire che I petali sono caldi Le foglie sono scure Vabbè ma non del tutto Dovresti accendere un fuoco per vedere Ma no Perché sono i colori in bianco e nero Cioè Dai No, dai Questo è certo che Vengono in bianco e nero Noi possono Cioè però Cioè Il controllo è tutto scuro